Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò altri tweaks molto molto belli compatibili con iOS 7. Come saprete ho già fatto il primo episodio dei migliori tweaks appunto compatibili con il nuovo sistema operativo di Apple ma ho deciso di farne un altro in quanto in questi giorni, soprattutto grazie all'uscita del jailbreak untethered per tutti i dispositivi, su Sidia stanno uscendo veramente tantissime risorse molto molto interessanti appunto per iOS 7 e tutti i dispositivi che di conseguenza lo supportano. Quindi ragazzi detto questo non perdiamo tempo e passiamo a questo secondo episodio di migliori tweaks per iOS 7. Benissimo, prima di cominciare con la lista voglio fornirvi una valida repository, una valida sorgente dove poter scaricare buona parte dei tweaks ricompilati per iOS 7. Quindi andate su Sidia, toccate la voce gestisci, dopo di che andate su sorgenti e tappate modifica e aggiungi e aggiungete la mia sorgente inserendo questo url gcrepo.biiphone.it Una volta aggiunto l'url aggiungete la repo, ringrazio ancora il team di BiPhone per avermi ostato appunto lo spazio server e una volta aggiunta la repo il primissimo pacchetto che dovrete installare si chiama gxnow. Lo potete installare dalla repo appunto gcrepo, è un pacchetto che ho creato io e gxnow non fa altro che fixare un importantissimo bug attualmente presente su iOS 7 ossia moltissimi di voi mi hanno detto che dopo aver installato un tweak di Sidia esso non compare, non compare e sembra che non sia stato installato. Questo perché Mobile Substrate ha un bug su iOS 7 e quindi moltissimi tweaks non funzionano. Questo tweak gxnow non fa altro che risolvere questo problema, quindi senza di lui moltissimi tweaks non funzioneranno. State attenti però perché gxnow attualmente non è compatibile con iPhone 5S, iPad Air e iPad Mini 2 quindi se avete uno di questi tre dispositivi per adesso eseguire il jailbreak è quasi inutile. Dopo l'installazione vi sarà stata aggiunta l'icona di Mobile Terminal nella Springboard e se per caso qualche tweak non dovesse funzionare basterà digitare in Mobile Terminal la parola fix come vedete vi verrà chiesta una password che è alpine, ci sarà scritto anche nel terminale quindi se vi chiede la password digitate alpine e premete invio e risolverà il problema di Mobile Substrate di conseguenza attivando tutti i tweaks quindi tenete presente questo fix molto importante nel caso i pacchetti che installate non dovessero essere compatibili potete affidarvi al mio tweak gxnow. Detto questo partiamo con la lista. Il primissimo tweak è Purge questo tweak permette di aggiungere una funzione veramente molto molto raffinata e comoda al menu multitasking infatti come vedete nel menu delle applicazioni ho tre carte, tre card, tre applicazioni aperte e guardate se io tengo premuto su una di esse compare questo avviso grazie al quale posso chiuderle tutte in un colpo solo posso farlo su qualsiasi label e se io per esempio clicco su yes come vedete tutte le applicazioni si sono chiuse in un colpo solo passiamo al prossimo tweak che è Lock Screen Tool questo tweak mi piace veramente tanto perché consente all'utente di cambiare la scritta scori per spegnere nella lock screen come vedete una volta installato nella lock screen ci dirà go to iPhone settings quindi facciamolo, sblocchiamolo e andiamo nelle impostazioni del tweak e come vedete qui abbiamo la possibilità di applicare un testo customizzato alla nostra lock screen per esempio io scrivo ciao con lo smile sorridente e come vedete non serve neanche un respring semplicemente bloccando e risbloccando l'iPhone ecco che il testo customizzato è stato applicato inoltre avremo anche la possibilità di gestire la comparsa o meno di camera infatti se io lascio attivo questa voce, questo hide button come vedete la videocamera scompare perché sarà stata nascosta dal tweak e non posso più attivarla dalla lock screen mentre se lo disattivo tornerò alla funzione di sempre ossia la possibilità di avere il tasto fotocamera qui nella mia lock screen quindi il lock screen toggle per tutti coloro che amano la personalizzazione avanzata del dispositivo non può assolutamente mancare passiamo al terzo tweak che è switch spring, questo è molto simile a purge, il tweak che abbiamo visto pochi minuti fa infatti una volta installato agirà come il primo tweak nel menu del multitasking e infatti guardate se io trascino in alto la springboard posso chiuderla, ora è diventata una specie di applicazione e quando la trascino su completamente ci compare questo avviso dal quale potremo scegliere due opzioni la prima è quit apps che fa esattamente la stessa cosa di purge, ci chiude tutte le applicazioni aperte ma la seconda permette di eseguire un respring del dispositivo quindi questo è veramente molto comodo, abbiamo una scorciatoia di respring a portata di mano cosa che io utilizzo praticamente ogni giorno passiamo al quarto tweak che è uno dei must have, uno dei tweak che ha fatto la storia del jailbreak che è Barrel attenzione però, Barrel attualmente è compatibile solamente con l'iPhone 5 e in alcuni casi con l'iPhone 5C se avete qualche altro dispositivo attualmente dovete aspettare che lo sviluppatore Aaron Ash aggiunga la compatibilità infatti moltissimi di voi mi hanno segnalato crash di iPhone 4 o 4S appunto per colpa di Barrel tenete conto che comunque questi tweak sono ancora tutti in fase beta ad ogni modo io che ho un iPhone 5 ho la fortuna di provarlo in funzione su iOS 7 come vedete posso disporre di una vasta gamma di animazioni che posso applicare quando svolto le pagine nel mio dispositivo una delle mie preferite è Cube Outside che come vedete aggiunge questo effetto dado molto carino quando scrollo le pagine un altro effetto molto carino è Whirl che in cui proprio le icone sembra che vengano sparate via per poi essere sostituite da quelle della pagina dopo ma forse l'effetto che proprio mi piace di più è Page Squeeze che mi ricorda molto TouchWiz di Android con questo effetto non saprei nemmeno io definirlo comparsa e ricomparsa con uno zoom alterno comunque Barrel se avete un iPhone 5 non può mancare abbiamo poi un tweak molto utile che si chiama NoSeeAds come si intuisce dal nome questo tweak permette di bloccare tutte le pubblicità su Cydia e per pubblicità non intendo quei quadratini che vi compaiono quando siete nella scheda di un tweak no intendo quelle pubblicità molto più fastidiose non so se vi è capitato con il nuovo Cydia purtroppo sono stati aggiunti dei pop-up che in pratica possono anche portarvi al di fuori di Cydia stesso cioè mentre voi siete su Cydia si chiude Cydia e si apre l'App Store senza che voi facciate nulla e vi porta per esempio a un'applicazione sponsorizzata con NoSeeAds si bloccano questi pop-up quindi consiglio l'installazione a tutti quanti passiamo ora al prossimo tweak sviluppato da CoolStar che si chiama RecordMyScreen come si intuisce dal nome permette di registrare lo schermo di iOS una specie di Camtasia Studio per il nostro iPhone sarà attivabile tramite Activator quindi dovremmo selezionare un metodo per attivare questo tweak io per esempio scelgo doppia pressione sulla barra di stato lo assegno a RecordMyScreen e come vedete se ora io tocco due volte sulla barra di stato compare il pop-up di RecordMyScreen che mi consente di registrare in questo momento sta catturando tutto quello che appare a schermo le registrazioni vengono piuttosto bene unica pecca è che attualmente non registra l'audio le registrazioni vengono salvate nella directory PrivateVarMobileDocuments questa è la directory di salvataggio dei video passiamo al prossimo tweak sviluppato da Ryan Petrich che è Snowberlay questo tweak mi ha veramente sorpreso uno forse dei miei preferiti come vedete aggiunge questa nevicata finta all'interno del nostro iPhone ma la cosa bella è che è veramente dappertutto addirittura nelle fasi di avvio si vedono questi fiocchi di neve l'ho provato per una mezz'oretta non dà assolutamente fastidio agli occhi e soprattutto per i mesi invernali è veramente un tweak molto molto carino mi piace veramente tanto soprattutto è carina l'idea quindi congratulazioni Ryan Petrich per aver creato questo bellissimo bellissimo stupendo tweak passiamo a un altro tweak classico il quale è Zeppelin Zeppelin ci consente di modificare il logo operatore come vedete con un disegnino nell'applicazione si trovano già alcune template reimpostate alcune molto molto carine altre un po' meno e come vedete sono Abstergo, Android, Science, la mitica Apple, Assassin's Creed eccetera come vedete sto switchando loghi si attivano senza bisogno di un Respring ovviamente ce ne sono tantissimi senza contare che su Cydia si possono scaricare anche loghi aggiuntivi quindi anche qui per gli amanti della personalizzazione Zeppelin non può certamente mancare sul vostro iPhone jailbroken passiamo ora al prossimo tweak molto importante anche lui che è Software Update Killer come si intuisce dal nome questo tweak blocca la possibilità di aggiornare il software iOS e come sappiamo è una funzione molto molto importante perché se voi per sbaglio doveste aggiornare il software iOS potreste perdere la possibilità di eseguire il jailbreak quindi io vi consiglio per sicurezza di installare questo tweak così magari non lo so fate un errore vi parte l'aggiornamento questo tweak ne blocca la possibilità proprio di installarlo quindi siete in una botte di ferro questo tweak preserva al massimo il jailbreak per sicurezza vi consiglio di installarlo e passiamo all'ultimo tweak per la puntata di oggi ma niente paura seguirà una terza puntata perché ce ne sono ancora tanti di tweak belli e compatibili ad ogni modo l'ultimo tweak è Dog Shift un tweak che mi ha veramente sorpreso perché consente di modificare il dock iOS infatti una volta installato nelle impostazioni ci sarà la voce Dock Shift e come prima cosa dovremo attivare il tweak con l'apposito interruttore e dopo di che potremo modificare lo sfondo del dock come vedete abbiamo vari coverage abbiamo anche il coverage trasparente oltre che tutti questi vari aspetti alcuni chiari alcuni scuri ma ad ogni modo tutti molto molto carini il mio preferito è l'effetto trasparente quindi ragazzi questo secondo episodio sui migliori tweaks di Cydia per iOS 7 finisce qui se volete il terzo episodio lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale per farmi capire che il mio lavoro vi piace condividete questo video dappertutto per permettere a molte persone di conoscermi seguitemi su Twitter e su Facebook entrambi i link li trovate giù in descrizione ancora una volta vi ricordo di iscrivervi al mio canale un grande saluto ciao a tutti